Ben trovati all'appuntamento con le previsioni del tempo. Cominciamo con la situazione generale europea, caratterizzata da una serie di corpi nuvolosi che stanno mettendo in evidenza la situazione di irregolarità in Spagna, Francia e parte della Germania. Residui nuvolosi sul nord e sud Italia con sporadiche piogge. Provisioni per il 27 novembre 2014 caratterizzata da una situazione di nuvolosità irregolare con pioggia su Puglia, Campania e Calabria e sul nord, est Italia. Al centro, sulla Sicilia e sulla Sardegna, condizioni generali di cielo sereno, poco nuvoloso, temperature comprese tra 9 e 21 gradi con venti nevoli di direzione variabili e mari poco mossi.